Ricevevano acconti o interi importi per i prodotti visti dagli acquerenti online, ma alla fine non spedevano mai la merce richiesta e si rendevano irreperibili. Era sempre lo stesso il modus operandi utilizzato da quattro italiani originari del centro-sud Italia, già noti alle forze dell'ordine e denunciati a piede libero dal commissariato di Fano. Gli agenti, coordinati da Stefano Seretti, hanno portato a termine l'operazione grazie all'aumento di controlli finalizzati alla prevenzione e repressione delle truffe. Nei casi oggetto di indagine, la vendita riguardava un articolo per la cura dei capelli, un tablet, un trattore agricolo e un contratto di assicurazione per auto. Gli importi pagati variavano da 100 a 4.500 euro. Inoltre, i poliziotti di Fano hanno scoperto un'altra truffa ai danni di anziani. Il malfattore, sospettato di appartenere a un vero e proprio sudalizio criminale, è un uomo campano di 31 anni, anche lui noto alle forze di polizia. Con raggi grimmirati era riuscito a farsi consegnare 500 euro anche da un settantenne di Fano. In tutti i casi, le vittime prescelte venivano avvicinate sempre nei parcheggi di grandi centri commerciali, situati nelle vicinanze di istituti bancari. Qui entrava in azione l'uomo che fingeva di conoscerli e proponeva l'acquisto di giacche in pelle, spacciate per essere di alta qualità, ad un prezzo estremamente conveniente. Gli anziani venivano convinti a prelevare del denaro contante nello sportello Bancomat e ad effettuare l'acquisto all'atto del prelievo. Il malvivente, una volta conquistata la fiducia delle vittime, riusciva a digitare la cifra, ma aumentando con destrezza l'importo da prelevare. Quindi sottraeva i contanti al malcapitato e si dava alla fuga. Nell'episodio che si è verificato a Fano, il settantenne, dopo aver realizzato di essere stato raggirato, è ritornato il giorno dopo, nello stesso parcheggio di fronte al Brico Center, dove ha incontrato di nuovo il truffatore, intento ad avvicinare altre persone. Alle pressanti insistenze dell'anziano di riavere il suo denaro, il 31enne si è allontanato a bordo di un'auto, ma grazie ai dipendenti del negozio la polizia è riuscita in poco tempo a rintracciarlo. All'interno della vettura sono stati rinvenuti numerosi capi, ne copelle, del valore di poche decine di euro, ma rivenduti al prezzo di 300 euro ognuno. Inoltre, l'uomo non aveva la licenza per la vendita al dettaglio di abbigliamento. In più, dal controllo è emerso che l'auto da lui utilizzata era stata noleggiata irregolarmente da una società non titolata a questi servizi e quindi è stato sanzionato con il fermo amministrativo del mezzo. I vestiti invece sono stati sequestrati. Il 31enne è stato denunciato a piede libero per truffa e furto ed è stato sottoposto alla misura di prevenzione del rimpatrio, con foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Pesaro.